Eccoci insieme con il Bianco e Rosso TV Sport, fra decine minuti ci colleghiamo con Guido Angelozzi così cerchiamo di capire esattamente come stanno le cose per Barreto. Ricordo il biglietto per il concerto di Giovanotti 080 501 9998 per i vostri interventi in diretta ma a te che vada via Gilè non ti dispiace ad esempio, che vada via Gazzi non ti dispiace cioè cosa... io provo smarrimento, devo dire la verità, il fatto che vada via Gilè e Gazzi più che Barreto devo essere sincero, il fatto che vada via Gilè e Gazzi mi dispiace molto. Adesso mi hai fatto due nomi di due calciatori seri, soprattutto due uomini, due professionisti sani, di sani principi e che hanno dato veramente molto alla nostra squadra e che sono gli idoli indiscussi, questo sicuramente farà molto male a tutti i tifosi, però dall'altra parte capisco anche le esigenze professionali, Gilè ormai ha 31 anni, Gazzi ce ne ha 28-29 quindi voglio dire questo è l'ultimo treno, l'ultimo contratto, visto che la carriera di un calciatore non dura molto, è l'ultimo contratto quindi capisco anche questa scelta. C'è un amico in linea, pronto? Sì pronto, buongiorno, a te Enzo e a Giuseppe Benzari, volevo rispondere al giochino se possibile. Allora, chi è questo giocatore? A me sembrerebbe Lorenzo Scarafoni. A te sembrerebbe bene, nel caso di dire, perché è Lorenzo Scarafoni, bravo, complimenti, complimenti. Dai il tuo nominativo e verrei rintracciato su come ritirare il biglietto per il concerto che la prossima settimana Giovanotti terrà all'Arena della Vittoria, quindi rientrerai nel vecchio stadio del Bari, insomma. Eh, dopo tanti anni. Dopo tanti anni, bravo, dai, lascia il tuo nominativo e verrai contattato dalla nostra segreteria, ok? Grazie. Ma non è l'unico biglietto, ne abbiamo un altro a disposizione, un altro. 080-501-9998, facciamo vedere già il prossimo giocatore chi è, il prossimo giocatore che si nasconde dietro la tendina. Vediamo un po' se riusciamo a individuarlo. Eccolo qua. E questo mi ricorda delle mie belle giornate da ragazzino allo stadio della Vittoria, eh? Questo non ho la più palle di dediti, sono troppo giovane. Io adoravo. Un giocatore che io adoravo. Sei troppo giovane. Io sono troppo giovane. Quindi abbiamo favorito una fascia, diciamo, 30-40, qua 40-50, eh? Sali perché io non ho 35, però adesso... 40-50, va bene, speri, 40-50 va bene. 080-501-9998 per le vostre telefonate in diretta su Telebari, Radiobari oppure attraverso il sito www.radiobari.net. C'è un amico in linea, pronto? Sì, volevo partecipare al giochino se è possibile. L'hai individuato questo giocatore? Per me è Stefano Pellegrini. Per te è Stefano Pellegrini. Qua dobbiamo cambiare la tendina, lo dico ai tecnici, è troppo facile il gioco. Perché è troppo facile, dobbiamo andare verso un'innovazione per me. Hai indovinato, bravo, bravo. Stefano Pellegrini, giocatore per il quale io stravedevo, è che magari un giorno contatterò anche al telefono per salutarlo. Lui è un giocatore formidabile, tecnica e velocità ai massimi livelli. Aveva solo un limite Stefano Pellegrini, che era da 10 in casa e da 5 in trasferta, perché in trasferta veniva un po' meno sul piano caratteriale, mentre in casa era un giocatore formidabile e ricordi in particolare una tripletta contro il Varese, un gol più bello dell'altro, davvero da collezionista. Grazie, anche tu puoi lasciare il tuo nominativo. I biglietti per il concerto di Giovanotti li abbiamo dati. Fra poco collegamento con Guido Angelozzi. E intanto, visto che c'è alle nostre spalle Torrente, ti chiedo Torrente. Enzo, chi lo sa, io onestamente non ho mai visto giocare le sue squadre, però dai risultati che ha ottenuto sembra un buon allenatore. Gli hanno fatto un contratto di un anno, io non so fino a che punto in questa situazione sia giusto fare i contratti annuali, perché se veramente si vuole dare una svolta, e qui io non sto parlando, Enzo, di sborsare milioni di euro, io sto parlando di resettare tutto, partire tutto da zero e creare un progetto che sia vincente, che piaccia alla gente. Bisogna anche dare la possibilità, se si punta su una natura giovane, di lavorare. Un anno, non so... Dice poco da questo punto di vista. È troppo poco, io lo consiglio. C'è un amico in linea, pronto? Sì, buongiorno, io vi sento per radio, non vi vedo. Sì, ciao. Volevo sapere chi c'è come ospite? L'ospite Giuseppe Manzari, Associazione Barintesta. Ah, ecco, ma io vi sento... cioè sento la radio, state parlando, è in diretta? Sì, sì, in diretta. E vabbè, forse ho un ritorno... E poi si è leggermente differito il ritorno, eh? Leggermente differito. Non ci sono problemi. Allora, niente, ragazzi, io volevo semplicemente dire questo. Vorrei tanto chiedere a tutta quella gente che... Io premetto che sono dello stesso parere di Roberto Maffei e tutti coloro che auspicavano praticamente la fine di questa società. Volevo soltanto sapere, cioè a livello di curiosità, vorrei tanto sapere da chi dice che la retrocessione nelle serie minori sarebbe una tragedia. Queste persone che differenza vedono rispetto alla... Cioè che differenza vedrebbero a fare un campionato di serie C di ottimo livello rispetto alla mediocrità e allo squallore nel quale siamo caduti, come in campagna acquisti, cioè come gestione della società, come tutto. Cioè io non vedo nessuna differenza. Qua siamo caduti in una mediocrità unica, primo. Secondo, una considerazione, come volevasi dimostrare durante il campionato scorso, praticamente siamo retrocessi noi tifosi che non ce lo meritavamo, mentre tutti i pagliacci che andavano in campo rimarranno tutti in serie A, tutti quanti ad altissimi livelli e continueranno a percepire ottimi ingaggi. Arrivederci.